Beh ragazzi, che dire, per prima cosa un ringraziamento doveroso. Ringraziamo tutti insieme Paolo Costa per essersi finalmente degnato di fare il peso. Anche perché, poverino, è stato messo in condizioni clamorose e gli sono state concesse soltanto 20 libri in più rispetto a quanto inizialmente stabilito dal contratto. Seriamente però. Sigla e poi commentiamo ancora una volta tutto quello che è successo. Ok ragazzi, ci siamo quasi. Al venerdì della Fight Week, quindi il giorno prima del match, fra l'altro la sera, le sorprese dovrebbero essere ufficialmente finite, perlomeno quelle negative. Perché Marvin Vettori e Paolo Costa hanno ufficialmente fatto il peso. L'hanno fatto entrambi, peso che ricordiamolo era di 205 libri perché il match si svolgera formalmente nella divisione Massimi Leggeri. Entrambi sono arrivati leggermente al di sotto del 205 libri consentite. Costa è arrivato a 204 e mezzo, Marvin è arrivato a 204. Costa che fra l'altro ha continuato anche dopo il peso, durante il peso, con il suo atteggiamento, l'atteggiamento che ha avuto durante tutta la Fight Week, quella faccia tosta. Perché dopo essere salito sulla bilancia e dopo che era stato annunciato il suo peso, ha fatto anche questo gesto qui. Come per dire, ci siamo tolti il problema, come se davvero per lui fosse stato un problema fare questo peso e non una strategia, una tattica, un capriccio, quello che vogliamo. Comunque, in sostanza, un atteggiamento vergognoso. Detto questo, ragazzi, c'è stato il peso e soprattutto c'è stato anche poi il face-off. E che face-off? Lo attendevamo tantissimo. Era già un face-off che prometteva scintille in realtà per i due fighter che si sarebbero dovuti vedere faccia a faccia. E poi, dopo quello che è successo durante questa Fight Week, non potremmo che aspettarci veramente qualcosa di emozionante, di emotivo. E Marvin ce l'ha regalato, andando subito ad attaccare Paolo Costa, facendogli ovviamente il doppio dito medio, invitandolo addirittura a colpirlo dopo che Paolo Costa probabilmente l'ha minacciato, per così dire. E' stato un face-off molto acceso, un face-off che, se ce n'era bisogno, fa crescere ancora di più l'hype in vista di questo main event, che ricordiamo sarà sempre 5 round. E ricordiamo soprattutto che questo main event sarà in un orario comunque tutto sommato favorevole, perché la main card inizierà su da zone a partire dalle 22. Quindi, intorno alla mezzanotte o qualcosa del genere, dovrebbero combattere Marvin e Paolo Costa. Però ragazzi, adesso vanno alle ciance. Le parole sono finite, le chiacchiere sono finite, le polemiche e i problemi si spera anche. Adesso è rimasto soltanto più un appuntamento, quello più importante, ed è quello nell'ottagono, dove si vedranno soltanto faccia a faccia Marvin Vettori e Paolo Costa. Sinceramente ragazzi, non vedo l'ora. Il fatto che il match non si svolgesse nella divisione pesi medi, ve lo dicevo ieri, mi aveva un po' tolto il sapore, perché comunque quella è la divisione che interessa a Marvin, in teoria anche a Paolo Costa, ma nello specifico a Marvin, e quella in cui vuole arrivare un'altra volta a combattere per il titolo e a sfidare Israel a Desania. Però, sinceramente, tra tutte le polemiche, questo face-off così acceso non si può non essere carichi a mille per questo match, che adesso è veramente uno dei match più attesi dell'anno, ma non solo per noi fan italiani, per i fan di tutto il mondo, per esperti addetti ai lavori, quanto si è parlato questa settimana. Adesso è l'ora dei fatti. Iscrivetevi al canale, lasciate un like al video, fateci sapere qual è il vostro pronostico definitivo, il vostro pronostico finale per questo match, fateci sapere se vi ha gasato ulteriormente il face-off, anche se immagino di sì. E ragazzi, ci vediamo domani e analizzeremo poi anche insieme ovviamente il risultato del match, comunque vada. Forza Marvin, forza Italian Dream e grazie a tutti.